buongiorno benvenuti alla trentasettesima puntata con la rubrica noi leggiamo oggi vi parlo di un libro veramente semplice semplice il piccolo principe di antoine de saint opéry di cosa parla questo libro parla del l'autore ha un piccolo incidente col suo aereo è costretto ad atterrare in un deserto mentre cerca di riparare il proprio aeroplano fa la conoscenza di questo bambino nonché il piccolo principe i due fanno amicizia il piccolo principe gira tanti pianeti nel quale incontra ogni persona che rispecchia le persone del nostro della nostra società gli avidi generosi gli opportunisti le bravi persone ma ha un incontro speciale con una volpe che lascia a voi la curiosità di scoprire che rapporto hanno loro due cosa 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 significa qual è la morale della storia del piccolo principe che bisogna a godere delle piccole cose che che la vita ci regala buona lettura